Grazie, grazie. Io vorrei dirvi alcune cose a cuore aperto. Penso che un programma di governo sia prima di tutto l'idea del domani, del paese che tu hai, che coltivi e delle forze che su quell'idea tu pensi di organizzare. Pochi minuti fa Don Antonio lo ha spiegato da questo microfono con una lezione di politica straordinaria, ma voglio anche aggiungere che tutto questo lo devi fare misurandoti con la realtà. Dieci anni fa questo simbolo è nato per fondere chi aveva camminato su sentieri diversi. Oggi il pericolo è di andare divisi all'appuntamento decisivo. Io credo che la domanda giusta non sia per colpa di chi è potuto accadere. La domanda giusta è come si ripara un danno che può guastare il futuro e il destino di tutti noi. La verità è che se questo partito non è riuscito fino in fondo a federare se stesso, il motivo non è, credo, il cattivo carattere di qualcuno. Poi certo la politica sono anche le persone, sono i sentimenti, ma oggi vorrei dirvi che la mia opinione è un'altra. Ed è che se qualcosa si è spezzato è perché tutti noi, chi è qui, voi, e chi oggi qui non c'è più, abbiamo mancato l'appuntamento fondamentale che era quello con un cambio d'epoca destinato semplicemente a rovesciare il mondo. A scarseggiare non sono stati gli inviti al teatro Eliseo, a venire meno sono state alcune chiavi di un pensiero radicalmente, coraggiosamente diverso. Anche per questo, ai miei compagni di Una Vita, che oggi sono altrove, io mi permetto di dire così. Se pensate che il segretario di questa forza sia il vostro ostacolo, voi state sbagliando. Quel segretario a me è capitato di criticare, anche con asprezza. Ma se parlo da questo palco oggi pomeriggio, e mi rivolgo a voi, non è perché io mi sento all'ultimo dei moicani. Non ho neppure il fisico, a dirla tutta. Se io vi parlo da qui, è perché credo che il vero enorme problema della sinistra, qui e adesso, non sia il treno, ma sia il percorso. Le stazioni dove fermarsi per accogliere nuovi passeggeri e nuovi bagagli. Lo dico perché non esiste un partito che non affronti il nodo della sua identità. Questo, guardate, è sempre stato il passaggio decisivo. E lo è anche adesso. Guardatevi attorno, alzate lo sguardo. Queste locomotive splendide sono la nostra memoria. Chi saliva su questi treni portava spesso l'orologio nel taschino e bastava quello a farne la classe alta. Oggi ognuno di voi ha in tasca il sapere di secoli raccolto in uno smartphone. È un miracolo. Ma non vi dà la certezza che vivrete meglio di chi vi ha preceduto. Quelli, quelli di prima, hanno conosciuto l'equilibrio tra capitale e lavoro, tra profitti e salari. Lo Stato proteggeva dalle malattie, a cominciare dalla peggiore delle malattie, che è la miseria. Quel ciclo è finito, 40 anni fa, ed è finito con il riscatto della destra. La vera destra che esiste, che non è fatta di battute, non è fatta di felpe, la destra è pensiero, è grande teoria. Quella destra ha demolito lo scambio tra lavoro e consumi e lo ha sostituito con un altro, tra consumi e debito. Togli l'attesa al desiderio, era lo slogan al lancio sul mercato americano di una nuova carta di credito. Anche se guadagnavi poco, non guadagnavi nulla, il messaggio era fantastico, formidabile. Compera quello che vuoi, quello che ti serve, anche la casa, pagherai domani, forse. Ed è accaduto in questo modo, per decenni, che un intero edificio morale fondato sull'etica del lavoro è andato a farsi benedire. Nelle famiglie semplici, nelle cucine umili dell'Italia di quando ero bambino, io capitava di sentire la frase, spesso la dicevano i nonni, questa cosa qui non ce la possiamo permettere, quest'anno non ce la possiamo permettere. Mettila come ti pare, ma togli l'attesa al desiderio. È molto più facile che non dire questa cosa, non ce la possiamo permettere. Poi, dieci anni fa, anche questo scambio è collassato. E il capitalismo da quell'infarto non si è ancora ripreso, anche se un bel danno lo aveva già fatto. Aveva retrocesso il lavoro a merce e promosso il consumo a identità. Quel genio di Steve Jobs lo aveva capito tra i primi. Aveva detto, comperate un prodotto Apple, e non acquisterete un oggetto a una condizione sociale. Ecco, noi siamo qui, noi siamo nel punto esatto della storia, dove allo scambio tra consumi e debito bisogna sostituire qualcosa di diverso. E quello scambio nuovo dirà se il nostro racconto avrà forza per catturare sentimenti, per scuotere convinzioni profonde. Allora ve lo dico col cuore. Qui dentro abbiamo un giudizio diverso su alcune scelte di questi anni. Sul Jobs Act, per dirne una. o sul modo di distribuire il bonus ai diciottenni, che è una cosa giusta. Ma nella casa di un notaio i libri ci sono. E nella casa del disoccupato, che spesso mancano. E allora non conviene dare a tutti lo stesso e fare parti uguali tra diseguali su tante altre cose. La pensiamo allo stesso modo e rivendichiamo giustamente. Lo faccio io. Il buono che si è fatto. Ma io non temo le differenze tra noi. So però che ricomporre un campo diviso vuol dire come collochiamo il lavoro, la democrazia, il legame con gli altri dentro questa nuova storia. Ieri Luca Borgomeo ha parlato qui con Sapienza e non l'ha fatto per caso perché a Napoli l'economia civile ha visto la luce. Padre Antonio l'ha appena ricordato, ha citato Genovesi, poteva citare Labate Galliani. Qui si è studiata l'economia civile, si è studiata la ricchezza della persona, poi ha prevalso la ricchezza delle nazioni, di Adam Smith. Ma qui c'era un ceppo fondamentale. Fu una pagina decisiva nel fondare la libertà del moderno e l'ha proiettata su tutto il resto dell'Europa. Era l'idea che l'economia non poteva mai separarsi dall'individuo. Togli l'attesa al desiderio. No, era un'altra teoria. Ed è questo che oggi colloca quel pensiero in una frontiera avanzata, perché dopo la destra, dopo il fallimento della destra, ricongiunge l'economia alla società. Io vi giuro, non è andare a spasso per le nuvole. E' vero che solo così un programma avrà la potenza per abbattere il muro della paura e della delusione con un atto di coraggio. A me piace dire con l'eresia di un pensiero che sfidi chi ha condotto le società a svendere l'anima su un altare pagano che hanno chiamato mercato. L'ultima slide di Don Antonio era quel volto che abbiamo studiato, visto sui libri di scuola. Oggi è il 28 di ottobre. Mancano tre giorni e saranno 500 anni esatti da quando il modaco, più famoso della storia, ha fisso le 95 tesi sul portale di quella basilica. Fu una rivoluzione in ogni senso, teologico, sociale, politico. Noi non siamo l'utero, ma qualche eresia è chiesta pure a noi. E non è l'eresia attaccare i poteri quando siamo potere, ma ricostruire dal fondo un altro modello di governo, di società, di scambio, di potere. Facciamo questo e saremo più forti quando diremo perché un manovale di 60 anni sull'impalcatura non deve più salire. Devi spiegare la ragione etica di quella tua convinzione quando diremo che l'etica della responsabilità muore, muore dinanzi a chi usa la Shoah per insultare la curva dell'avversario. Ma quell'etica, ma quell'etica, credetemi, quell'etica muore anche quando un candidato stampa i suoi manifesti con questo simbolo e dieci giorni dopo li ristampo uguali, ma col simbolo degli altri perché ha più possibilità di venire eletto. Io lo chiedo a me stesso e a voi, ma chi è? Chi è più colpevole? Quel ragazzino di 12 anni a cui un giorno, spero presto, un amico, un insegnante, Alberto Angela spiegheranno chi è Ranna Frank o quel candidato senza una morale perché anche così si spegne la democrazia. se la politica si riduce a una merce come le altre, chiudo, sento dire ricostruiamo il centro-sinistra perché bisogna affermare i populisti. Ok, proviamoci, ma se quello è il traguardo resettiamo il vocabolario. Se la sfida è l'unità non ha senso alzare un muro contro la forza più numerosa e chi la guida, ma non ha senso neppure riesumare le categorie del tradimento. E credetemi, non basterà l'appello dal voto utile e se la sinistra si presenterà divisa, noi non saremo assolti, nessuno di noi. Se a fine corsa vogliamo ricomporre quel campo, bisogna fare due cose. Riconoscere che tutti, chi è dentro e chi è fuori, abbiamo bisogno di un finale diverso, dove una quota del giusto appartiene a ciascuno. Io lo dico da qui al segretario del partito, l'ho visto, non so se c'è, se ascolta, ascolterà. Io lo dico da qui a Matteo Renzi, c'è stato un momento, c'è stata una stagione nella quale tu sei stato la soluzione di questa parte. E io te lo dico perché mi candidai in alternativa a te. E in quel congresso io ho perso e oggi ti dico che era giusto che vincessi tu, perché in quel momento tu incarnavi una speranza, eri tu stesso il messaggio di questo partito. E un popolo che a saggezza lo aveva compreso. Ma oggi anche tu da solo non basti più perché nessuno basta a se stesso. E la sfida di noi e dei tanti fuori è capire quale messaggio portiamo nel Paese. E allora la seconda cosa da fare è un atto di generosità e su questo piano non servono appelli, servono atti. La fiducia sulla legge elettorale ha spezzato un altro filo, io spero che non sia l'ultimo e se il Presidente del Senato ci lascia nessuno, nemmeno con se stesso pensi uno di meno perché è qualcosa che riguarda tutti noi. Bisogna ricucire, bisogna rammendare, non sarà facile ma è la sola strada se pensiamo che conta restituire al Paese un segno di riscorsa. Però guardate che davvero se alzi lo sguardo alla gravità della situazione attorno a noi, dell'Europa, del mondo, del Mediterraneo, quel segno non sarà più un nome, una persona, quel segno dovrà essere un messaggio diverso. Io vi ho detto poche cose e volevo dirvi ma col cuore aperto prendiamo questo sentiero, cambiamo il percorso del treno, stupiamolo questo meraviglioso Paese e io sono certo che se lo faremo anche quello che per qualcuno, forse molti di noi è stato l'inverno del nostro scontento potrà lasciare spazio ad un raggio di luce. Buona fortuna. Grazie. Applaus Grazie. Grazie. Grazie.